Ciao, mi chiamo Fabrizia D'Ottavio e sono una ginnasta, anzi un ex ginnasta, anche se poi alla fine di essere ginnasta non si smette mai. La mia è stata una carriera lunga, anche se è finita a 25 anni, ma si sa che le ginnaste hanno dei termini abbastanza ravvicinati. Una carriera intensa e gli ultimi sette anni li ho passati nel Team Italia con la Nazionale e ho avuto modo di vivere l'esperienza più bella, più emozionante per un'atleta, che sono appunto le Olimpiadi, quella di Atene e quella di Pechino. E ad Atene in particolare, che è stato quasi il mio debutto in maglia azzurra, è arrivata un'inaspettata e meravigliosa medaglia d'argento che è rimasto del tutt'ora il ricordo più bello che ho, ho ancora la pelle d'oca soltanto nel parlarne, nel ricordare quei momenti. A 25 anni dopo Pechino ho smesso appunto di gareggiare. Ovviamente non è stato facile ricominciare da capo, perché alla fine mi sono ritrovata nella realtà, diciamo, quotidiana, che però fino a quel momento non avevo vissuto, perché ero vissuta sempre all'interno della mia bolla, fra allenamenti e compagni di squadra. Per cui sicuramente all'inizio c'è stato un attimo di smarrimento, non sapevo bene cosa voler fare, cosa anche fossi in grado di fare al di là della ginnastica. Però pian piano ho capito che volevo che lo sport continuasse a far parte della mia vita, anche se in altre vesti. Quindi ho cercato di prendere tutto ciò che la ginnastica mi aveva lasciato di positivo, un bagaglio di esperienze, di affetti, di contatti. E quindi mi sono pian piano reinventata facendo dello sport attualmente anche la mia quotidianità, anche se alla fine in pedana non ci salgo più, però seguo le più piccole e continuo a frequentare l'ambiente.